Tenetevi forte perché oggi andate a scoprire la ricetta del pane più buono che vi potete fare a casa. È incredibile quanto una realizzazione, ok, fatta con solo farina, acqua, lievito e sale, ti può prendere così tanto. Perché io starei qui veramente a vita ad annusare questa goduria e non vedrai l'ora di addentarla, perché io vi posso assicurare che l'acquolina in bocca, cioè io lo devo tenere da parte perché altrimenti continuo a salivare. Raga, veramente questa ricetta non perdetevela perché vi spiegherò nel dettaglio come realizzare un qualcosa di pazzesco semplicemente partendo da pochi ingredienti che sono quelli del pane che conosciamo tutti. Davvero la ricetta di svolta per farvi godere una pagnotta da 5 stelle direttamente a casa vostra. Questo pane è fatto con il lievito madre, però io vi do l'alternativa anche per realizzarlo con il lievito di birra. Il lievito madre comporta anche un'attesa soprattutto più lunga, mentre con il lievito di birra l'attesa ragazzi diminuisce di 2 terzi. Quindi regolatevi voi in base ai vostri gusti e in base al tempo che avete a disposizione. Io ve lo dico, uso le mie mani. Quindi no planetaria e se non l'avete potete stare serenissimi. Allora adesso io vi spiego come preparo il mio lievito madre per la realizzazione del pane. Una volta fatta questa procedura andiamo proprio alla realizzazione della pagnotta, delle pagnotte anzi perché io ne faccio di solito almeno 3 alla volta. E la procedura sarà la stessa sia se utilizzo il lievito di birra che il lievito madre. Questo lievito che vedete in realtà è stato lasciato in frigo per molto tempo, addirittura forse una decina di giorni, non dovreste fare questo. Ma se vi dovesse capitare, invece che rinfrescare una parte di lievito madre, una parte di farina e mezza parte di acqua come si fa di solito, basterà rinfrescarlo con queste proporzioni. Due parti di farina, una parte di lievito madre e una parte di acqua. Ok la differenza? Quindi nel mio caso 120 grammi di lievito madre, che era la quantità che mi sono trovato in frigo, 120 grammi di acqua e 240 grammi di farina. Pulisco il mio lievito madre dalla crosta che si è formata in superficie. Di solito, soprattutto se lo lasciate lì per molto tempo, è facile che si formi questa pellicina, anche abbastanza spessa. Quindi lo pulisco con un coltellino e lo taglio a pezzi. Gli faccio fare un bagnetto con un litro di acqua a temperatura ambiente e un pizzico di zucchero. Dovrà rimanere in ammollo per circa 20 minuti. Poi lo tolgo dall'acqua e lo miscelo appunto agli ingredienti che vi ho detto. Io utilizzo volentierissimo la Petra 6384, che è una farina molto forte, perfetta anche per rinfrescare il lievito madre, e acqua. Mescolo prima con un cucchiaio e poi possiamo anche cominciare a impastare con le mani. Però il composto deve essere molto grezzo. Lo divido a metà e una parte, nel mio caso la più grande, quella da 300 grammi, la tengo per il mio pane. Mentre la parte rimanente, che era circa 140 grammi, la conserverò in frigo, perché ovviamente una piccola parte di lievito serve per le volte successive. Come faccio a dargli maggiormente forza e struttura? Io faccio questa procedura con il mattarello. Lo appiattisco e lo allungo un pochino. Farina se notiamo che tende ad appiccicarsi sul piano da lavoro. E faccio queste pieghe per un po' di volte. Nel video si vede molto bene. Continuo a ripetere questa operazione, facendo le pieghe, tirandolo con il mattarello, poi faccio ancora pieghe, lo tiro con il mattarello, fino a quando noto che l'impasto davvero ha raggiunto una bella struttura, una bella elasticità. L'ultima piega dovrà essere fatta in questo modo. Allungo il mio panetto, poi lo piego in questo modo, in modo tale che risulti abbastanza sottile. A sua volta lo allungo ulteriormente con il mio mattarello e faccio questa chiocciola molto molto carina. E poi questa chiocciola a sua volta viene ripiegata su se stessa e ci faccio una croce. Questo è il modo perfetto per avere un lievito madre che ti dà proprio una grande soddisfazione a livello di lievitazione poi quando preparate le vostre pagnotte. Ovviamente dovete fare la stessa cosa anche con il lievito madre che poi conserverete in frigo. Il lievito madre che conservate in frigo lo potete mettere nel vostro contenitore che di solito utilizzate. Mi raccomando, magari sciacquatelo sempre un pochino così il vostro lievito rimane bello pulito. Mentre il lievito che utilizzate per il pane lo coprite con un panno un po' inumidito e lo lasciate lievitare fino a quando ha raddoppiato il volume. I due lieviti sono belli gonfi e quello che va in frigo lo mettete in frigo invece quello che utilizzate per il vostro pane è pronto. Possiamo iniziare con la ricetta proprio in sé la ricetta del pane. Acqua in una ciotola. Aggiungiamo anche il nostro lievito che può essere lievito madre oppure il lievito di birra. Iniziate a farlo un pochino sciogliere con le vostre mani mescolandolo insomma un pochino. Lasciate riposare per circa 5 minuti insomma nel frattempo vi pesate la farina. La farina che adoro utilizzare proprio per questo pane è la Petra 1 macinata a pietra selezione climatica che è una farina di grano tenero di tipo 1 quindi una semi integrale perfetta perché oltre ad avere un profumo eccezionale ha anche un bel bilanciamento tra tutte le parti del chicco. Poi non so se lo sapete ma la macinatura a pietra mantiene, preserva ancora di più tutti i nutrienti della farina perché siamo certi che non si surriscalda durante il processo di macinatura. Una volta che l'abbiamo aggiunta mescoliamo veramente per pochissimo fino ad ottenere un composto abbastanza grezzo. Come notate la maglia glutinica deve ancora formarsi ma non c'è problema si formerà con dei riposi e lasciamo riposare l'impasto coperto con un canovaccio inumidito mi raccomando per circa un'ora se utilizzate il lievito madre oppure per 20 minuti se utilizzate il lievito di birra. Passato il tempo togliamo il nostro canovaccio aggiungiamo ora il sale che non avevamo aggiunto prima e anche un po' d'acqua una piccola parte di acqua che avevamo tenuto da parte questa servirà anche per far sciogliere il sale. Come potete notare comunque l'idratazione di questo pane è abbastanza alta. Formiamo queste pieghe guardate come faccio prendo una parte così esterna dell'impasto e la porto verso il centro e faccio questa cosa per 7-8 volte poi l'impasto lo spremo e poi con le mani guardate cosa faccio. dovete sentirvi una sorta di impastatrice ok? Dovete prendere l'impasto da sotto e iniziare a portarlo verso l'esterno ma è una cosa molto semplice dovete proprio fare questo movimento guardate come se doveste mescolare dal basso verso l'alto stessa cosa incorporare aria e nel frattempo l'impasto comincia proprio a prendere una struttura ancora più ancora migliore perché già l'acquisita facendo un piccolo riposo che è quello che abbiamo fatto prima e poi con questa lavorazione vedrete proprio che la struttura dell'impasto sarà ancora più bella perché inizierà già ad essere liscio fatto questo veramente basteranno due minuti state tranquilli coprite ancora la ciotola con il panno e lasciate riposare ancora per un'oretta 50 minuti se avete usato il lievito madre oppure 20 minuti nel caso del lievito di birra ora questo impasto deve essere messo sul piano da lavoro mi raccomando un goccino di acqua deve essere sempre un po' bagnatino il piano o comunque le vostre mani tutto perché l'impasto essendo così idratato non ha come amica la farina ma l'acqua quindi bagniamoci un po' le mani bagniamoci anche il nostro tarocco che ci servirà per dividere l'impasto perché adesso io avendo fatto le dosi per tre pagnotte lo divido in tre interrompo se vi sta piacendo il video un piccolo like e un supporto una condivisione mi fa sempre piacere grazie e ora è arrivato lo step della laminazione dobbiamo prendere l'impasto che servirà per fare una pagnotta e lo tiriamo tantissimo deve essere veramente sottile voi penserete chissà che lavoro complicato in realtà se voi avete formato bene glutine che state sereni se seguite tutti i passaggi che vi ho detto lo avrete formato benissimo tirandolo comunque con una certa delicatezza l'impasto vedrete che diventa veramente sottilissimo deve essere veramente un velo dopo aver fatto questo lo chiudiamo a pacchettino anche con una certa tenacia sarà ancora più facile inglobare aria lo mettiamo direttamente in una ciotola a sé dobbiamo avere a disposizione una ciotola per ogni pagnotta ok sempre mi raccomando inumidita se lo volete arricchire io ve lo consiglio tantissimo ragazzi io vi consiglio di arricchirlo ad esempio con le noci che è la mia farcitura preferita soprattutto nel periodo autunnale invernale che il pane alle noci è una roba pazzesca lo potete abbinare al formaggio a colazione con le confetture il burro entusiasmante poi sentite questo sapore di noce che va ad arricchire ancora di più il sapore già buonissimo dell'impasto cioè una roba pazzesca oppure lo potete fare alle olive ad esempio lo potete fare con i semi di girasole di zucca mi raccomando se lo arricchite con i semi però ricordatevi di farli un pochino ammollare se non li idratate tendono ad assorbire l'umidità dell'impasto e questo non va bene perché vorrebbe poi dire che l'impasto tenderà ad asciugarsi non lo vogliamo deve essere sempre bello idratato i semi li lasciamo magari in ammollo in acqua bollente per circa un'oretta almeno e poi li scoliamo e li distribuiamo sull'impasto e facciamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto con l'impasto invece senza farcitura ora riposare ancora per una quarantina 50 minuti e ovviamente se lo fate con il lievito di birra 20 minuti e poi siamo arrivati a delle classiche pieghe molto semplici queste pieghe devono essere fatte due volte la prima volta direttamente nella ciotola la seconda volta dopo ovviamente la quarantina di minuti 50 minuti l'impasto non dovrà essere sistemato nella ciotola ma direttamente sul piano da lavoro sempre un po' inumidito copriamo con il canovaccio e lasciamo riposare ancora quei 40-50 minuti fatto questo siamo arrivati alla chiusura e quindi alla composizione della nostra pagnotta prendiamo della farina mescolata con un pochino di farina di riso io vi consiglio metà e metà la farina di riso aiuterà a non far attaccare l'impasto alle pareti del vostro cestino della vostra ciotola se non avete la farina di riso io vi consiglio la semola rimacinata di grano duro con un setaccio io uso questo qua che è praticissimo distribuiamo un po' di farina sulla superficie della nostra futura pagnotta la capovolgiamo con l'aiuto di un tarocco ad esempio se l'avete oppure di una spatola per fare la chiusura ovale come potete vedere basta chiuderla un po' a pacchettino molto semplice arrotolate e poi mettete l'impasto nei cestini li trovate su Amazon costano pochissimo li trovate in qualsiasi negozio di casalinghi ma se non li doveste utilizzare o preferite insomma per le prime volte utilizzare qualcos'altro vi consiglio i cestini del pane che è proprio dove ci mettete il pane quando lo servite a tavola oppure lo stampo da plum cake in questi due casi però è importante coprire lo stampo oppure il cestino da pane con un canovaccio da cucina oppure anche un asciugamano molto sottile perché come potete notare i cestini adatti hanno questa tela all'interno questo tessuto che serve proprio per non far attaccare l'impasto al cestino se invece li volete fare rotondi vi faccio vedere come chiudo io il pane quando lo voglio fare appunto rotondo porto proprio tutti i lembi dell'impasto verso l'interno e poi per la lievitazione io uso un'insalatiera o una ciotola va benissimo sempre mi raccomando coperta con un panno e un pochino di farina sopra perché altrimenti tende comunque ad attaccarsi la chiusura del pane comunque deve essere sopra ricordatevi questa cosa non deve mai essere sotto voi la dovete vedere quando mettete poi il pane a lievitare quindi siamo giunti alla lievitazione finale se fate l'impasto con il lievito di birra vi dico subito che la lievitazione durerà circa due ore se invece utilizzate il lievito madre dipenderà dalla forza del vostro lievito io di solito lo lascio lievitare a temperatura ambiente per circa otto ore tutta la notte poi lo trasferisco in frigo due ore ok in modo tale che avrà uno sbalzo termico quando sarà ora di cuocerlo e poi soprattutto da freddo è più facile manovrarlo perché l'impasto risulta un pochino più sodo cottura importante l'utilizzo di una pentola in ghisa se potete oppure una bella pentola adatta per anche la cottura in forno quindi senza manico in plastica o in silicone inizialmente si forma una sorta di camera di vapore che ci permette di ottenere proprio una bellissima lievitazione in cottura e poi davvero una crosta meravigliosa sottile e mega invitante proprio perfetta come i pani che vediamo di solito in quelle belle panetterie lussuose che ci fanno una grangola avendo poi il forno di casa a disposizione che non è performante come i forni professionali la pentola si aiuta a mantenere una temperatura elevata soprattutto nella prima fase e omogenea prendiamo la pentola la mettiamo in forno mentre si preriscalda il forno deve arrivare a 250 gradi quando suona il forno lasciamo ancora 5-6 minuti la pentola dentro il pane nel frattempo lo tiriamo fuori dal frigo lo capovolgete su un foglio di carta forno se fate il pane con il lievito madre fate un'incisione con una lametta oppure un coltello davvero affilato se invece vi siete fatti il pane con il lievito di birra non fate questo passaggio del taglio perché altrimenti potrebbe afflosciarsi un po' tiriamo fuori la nostra pentola dal forno togliamo ovviamente il coperchio mettiamo dentro il nostro pane chiudiamo subito col coperchio e andiamo in forno nella parte centrale per 30 minuti il forno suonerà abbassiamo la temperatura a 210 gradi il forno deve essere sempre statico togliamo il coperchio e lo lasciamo cucinare dentro fino a quando la crosta si è ben ben dorata e questo è il pane pazzesco con il lievito madre oppure il lievito di birra perché anche con il lievito di birra guardate che è alveoli voi poi ci mettete sopra un bel filo d'olio ci potete potete fare qualsiasi cosa ovviamente con questo pane ci potete fare delle bruschette potete farci dei toast meravigliosi che sono super gourmet burro montato il burro montato è una roba pazzesca magari ci mettete sopra anche dei cristalli di sale io non sono mai stato un patito di pane ma forse perché non ho mai mangiato un pane così buono da quando io comincio a farmelo davvero ricordatevi però una cosa il taglio al pane deve essere fatto almeno un'ora e mezza dopo che l'avete sfornato perché altrimenti rovinate la struttura interna tenderebbe ad asciugarsi troppo se aspettate un po' invece dentro l'amido finisce di gelificarsi e poi sarà pazzesco e la struttura del pane rimarrà perfetta lo potete conservare lo potete congelare lo potete tirar fuori e rifarlo rinvenire quando avete degli ospiti farete un gran figurone farà impazzire non c'è nulla da fare questo lungo video dettagliato lo so ho cercato di essere il più dettagliato possibile perché per me questa preparazione è sacra davvero quindi io ci tenevo a spiegarvi tutto come sempre perché io voglio proprio che voi abbiate le stesse soddisfazioni che io tutte le volte che lo faccio ringrazio poi tantissimo Petra per aver collaborato in questo video se lo provate a fare mi raccomando tagatemi su Instagram o su Facebook su Instagram poi trovate anche altre idee attraverso i Reel vi lascio qua altri due video se non ne avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimatete sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta ci vediamo molto molto presto con un nuovo video